Siamo qui con Niki Giussino in una piazza che... Marco Aurelio alle spalle. Marco Aurelio, siamo nel Campidoglio e si parla tanto di questa mafia a Roma. Niki, hai seguito le notizie? Sì, l'ho seguito e vediamo se inquadri gli operatori, tutti gli operatori che ci sono. Stiamo aspettando, so che c'è una manifestazione, ma non so chi sono i big della giornata. Chi saranno? Ci saranno dei big, ok. Ok, ma che è? Non siamo a Sanremo però, ci saranno i big. Ieri ci saranno i 5 stelle, quindi erano i big, diciamo. Ah, i 5 stelle sono i big, vabbè. No, 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 aspetta, sono i big, nel senso, quando ci saranno queste cose... I VIP. I VIP, vabbè, ci saranno i big. Adesso, alle ore 17... Ma non so, ma non c'è una scelta. Alle ore 17 ci sarà una manifestazione, giusto? Sì. Quanto manca? Ancora so. Eh, lì c'è l'orologio, andiamo a vedere sul Campidoglio, aspetta, eh. Ecco, mancano 20 minuti. 20 minuti, sono i 4 e 40, sì. Senti, quindi tu hai seguito un po' queste vicende, che ne pensi? La mafia a Roma, c'è o non c'è? Allora, io quest'anno direi che, come ha detto, non mi ricordo, sto giornalista ha detto... Vabbè, senza fare nome e cognome, un giornalista ha detto... Ci sarà Natale e Rebibbia quest'anno. E invece, possiamo dirlo, Gigi Proietti ha detto... È inutile, l'ha detto in versetti tipo... Tipo... Proietti, mi sembra che... Gigi Proietti, eh. Ha detto... È inutile che li portiamo a Reggina Cieli, mettiamo direttamente le sbarre al Campidoglio. Vabbè, se uno va perché al Campidoglio... Guarda, però un po' di sbarre, guarda, ce stanno al Campidoglio. Il signore sa la ride, ma... Giusto, tocca a mettere le sbarre al Campidoglio. Mi pare... Solo al Campidoglio? Solo al Campidoglio? Nel Campidoglio ci si possono mettere due, eh. Tutti, ha detto. E sbarre. E sbarre. Vabbè, torniamo a un tema, la manifestazione di oggi. Eh. Eh... Che illustraci? Faranno una manifestazione per togliere i corrotti dalla politica? Per togliere, cioè, una manifestazione... Per toglierli. Per toglierli, vabbè. Ma ci riusciranno? Ci riusciranno con questa domanda. Nighi Giusino? Vi dà la più cordiale dei buone notti.